Jennifer Lawrence dice molte parolacce, lo ha confermato lei stessa e pensate che sul set del primo Hunger Games alcuni proposero una divertente soluzione per arginare questo problema l'attrice avrebbe dovuto mettere del denaro in un barattolo per ogni parolaccia detta sul set sembra che questa soluzione non abbia funzionato e che l'attrice abbia riempito buona parte del barattolo c'è poco da dire, Jennifer Lawrence è una vera anticonformista e noi la amiamo così abbiamo già visto Tigris in passato ma probabilmente non l'avete riconosciuta la cugina di Coronanus Snow ha fatto la sua prima apparizione in Il canto della rivolta parte 2 potete vederla in questa clip dove cerca di aiutare Katniss e i suoi dopo gli eventi di La ballata dell'usignolo e del serpente sembra che abbia avuto una grande carriera da stilista fino a quando Snow non ha deciso di allontanarla tutt'ora non sappiamo né perché Snow abbia preso questa decisione e neanche perché lei abbia scelto di aiutare i ribelli e voi l'avevate riconosciuta? Fatecelo sapere nei commenti in che periodo si svolge Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente? il film è ambientato durante i decimi Hunger Games ciò significa che si svolge 40 anni prima i giochi di Amich che erano la cinquantesima edizione e 64 anni prima le vicende del primo Hunger Games che riguardavano la settantaquattresima edizione cosa ne pensate di questo film? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di seguire Screen Week e non dimenticate di seguire